La pandemia ha ridotto la popolazione abruzzese e quanto emerge da uno studio del Cresa, secondo cui il declino demografico in atto già dal 2013 è stato accelerato dagli effetti del covid. E questo non solo per le conseguenze immediatamente riconducibili al virus, come l'aumento dei malati, dei ricoveri e dei decessi, ma anche per i contraccolpi dovuti alle restrizioni imposte dalla politica, che hanno impedito i movimenti, causato perdite di posti di lavoro e limitato le cerimonie. Nel corso del 2020 le persone residenti in Abruzzo sono diminuite di 8.685 unità. È come se un comune della grandezza di Guardia Grele fosse sparito nel nulla nel giro di un anno. Nel 2020 inoltre si è registrato il minimo storico di nascite. Sono 8.227 venuti al mondo in Abruzzo nell'anno della pandemia. Parallelamente si è registrato anche il massimo storico di decessi. Sono morte 16.296 persone, mai così tante dal secondo dopoguerra. Solo il 7,6% dei decessi però è causa covid, ovvero 1.238 unità, ma è una percentuale più alta della media che si registra nel resto del mezzogiorno. Il calo demografico in Italia ha interessato principalmente le regioni settentrionali, ma è al sud che il divario tra nascite e decessi diventa sempre più grave. I numeri della popolazione abruzzese sono stati inficiati soprattutto dalla seconda ondata del virus. A pesare anche il calo dei flussi migratori. Sono 616 in meno rispetto al 2019 le persone che hanno cercato una vita migliore in Abruzzo, quasi il 10% in meno, con differenze tra le quattro province. Importante anche il numero che riguarda i matrimoni. Nel 2020 sono state 1.746 le coppie che hanno deciso di convolare a nozze. Nel 2019 ne erano più del doppio. Conseguenza questa del covid, dell'impossibilità di festeggiare, certo, ma forse anche di una società sempre più secolarizzata. Se nel 2019 i matrimoni celebrati in chiesa erano quasi il 53% del totale, nel 2020 ne sono stati appena il 24,5%, una contrazione superiore a quella della media nazionale, mentre i matrimoni civili hanno registrato un calo molto più modesto, di circa il 34%.